La pagina dell'arte e dei talenti agrigentini. Scopriamo le più recenti attività del pittore Marco Urso. Marco Urso è un pittore palermitano che vive e lavora a Favara e che il prossimo 14 giugno partecipa all'inaugurazione di una mostra a Favignana. Sì, una mostra molto importante tra Pirantello e Ludice, una delle mostre più importanti della Sicilia, curata da Vittorio Giarbi, del grande critico d'arte, di cui io ho avuto conoscenza e lui ha apprezzato le mie opere e in cui mi vuole portare oltre questa di Favignana, Spoleto e Biennale d'arte 2015. Io sono veramente felice di poter attraversare questo traguardo nel mondo artistico, nel mondo dell'arte. Ricordiamo che quello che mi ha fatto conoscere Vittorio Giarbi è il promotore delle mie opere, il professore Giuseppe Annone, del responsabile Onigusano di Acricento, che è stato lui a considerarmi nel mondo dell'arte, mi ha fatto incontrare nel mio studio Vittorio Giarbi e Vittorio ha detto Mark meriti questo travaglio, questo traguardo. E io sono veramente felice, assieme con i ragazzi dell'associazione che mi accompagnano, l'avvocato Luca Sumè e il segretario Salvatore Palumpo, che mi danno questa possibilità nel mondo artistico. Su Favara, su Acricento è un grande onore avere in contatto con Vittorio Giarbi, con il professore. Io sono veramente felice e spero di camminare sempre avanti nel mondo artistico. Grazie. Sul tavolo abbiamo poggiato alcune delle tue opere, le vuoi descrivere molto sinteticamente? Allora, il mio Marcatti, in arte, Marco Usso il nome, io mi curo dell'arte della medicina, in quanto questa è vena omplichionale e attraverso della mano abbiamo posa tenere che sono le vene della mano, poi abbiamo questa bellissima opera che andrà in mossa, Glaucochina, Neurofilo, che è attraverso le cose del cervello, dell'emonicolare del cervello, delle cellule, e l'altra è il cervello, è la parte occidentale del cranio che trasmette le vene, le cellule, tutto il circuito umano della nostra tecnica. E quello è veramente importante, in cui gli artisti di Sicilia, da Pirantello a Ludice, in cui Vittorio Sgarbi sarà presente il ministro della Cultura, Dario Franceschini, l'assessore regionale della cultura, e tanti personaggi come il professore Vittorio Sgarbi che illustrerà questa importante mostra, veramente, la sensazione.